Niente ferma un sorriso con questo slogan, l'Associazione Italiana Persone Down di Campobasso ha allestito nel capoluogo i banchetti in piazza municipio davanti alla chiesa di San Giuseppe Artigiano per la raccolta di fondi per finanziare le attività dell'Associazione investendo sul diritto alla cura, sulla riabilitazione e sulle iniziative che consentano l'integrazione delle persone con sindrome di Down. Siamo qui per ribadire la nostra presenza sul territorio, per ribadire il nostro impegno nei confronti delle persone con sindrome di Down e soprattutto quest'anno per ribadire anche il concetto di diritto alla cura. La cura è intesa non solo nel senso medico ma nella cura nei confronti delle persone che hanno bisogno di interventi abilitativi e riabilitativi. Un diritto alla cura che sia uguale dappertutto, in tutte le zone del paese, senza distinzione di provincia. È stato un anno difficile per tutti e ovviamente lo è stato ancora di più per le persone con disabilità e abbiamo notato, ahimè anche questa volta, un'assenza da parte di chi forse doveva ricordarsi che rimanere a casa per delle persone che hanno delle fragilità è ancora più pesante e più dolorose. L'associazione non le ha mai abbandonate, gli operatori supportati dalle varie piattaforme sono sempre stati vicini con loro, distanti ma uniti. Questo è lo slogan che ci è piaciuto ribadire anche in quella. Abbiamo riaperto, speriamo di poter continuare su questa strada perché le persone hanno bisogno di vicinanza non solo fisica ma soprattutto una vicinanza di intenti. Sul banchetto ci sono vari oggetti, articoli, di che cosa si tratta? Allora intanto c'è il nostro gadget che rappresenta la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down ed è la cioccolata, cioccolata solidale, cioccolata biologica, cioccolata molisana. Poi ci sono le pillole che non sono pillole contro nessuna malattia ma sono pillole contro i pregiudizi. E poi ci sono dei gadget piccoli che sono i lavori che i ragazzi fanno nel corso delle loro giornate a casa nostra.